Cesano Maderno è una delle città più importanti della provincia di Monza. Un vero paradiso naturale, ma anche un piccolo gioiello di storia. È in questa cornice suggestiva che stiamo per incontrare Daniele. Il mio percorso lavorativo è iniziato nel 98. Ho intrapreso l'attività iniziata da mio papà. Ho iniziato come apprendista, seguendo i tecnici più anziani, imparando così il lavoro. Per poi, negli anni, passare a seguire il rapporto con gli installatori. Sono Daniele Mornata, sono il titolare della site di Cesano Moderno. Ho 40 anni, a Cesano Moderno ci sono nato, ci vivo e ci lavoro. Del mio lavoro amo il saper affrontare le sfide quotidiane. Per me il servizio è un insieme di caratteristiche che formano la nostra professionalità. come competenza qualificata, precisione e preparazione tecnica. Essere campioni del servizio per me è ascolto e comprensione dei bisogni dei miei clienti. Che poi è un po' anche quello che faccio con la mia moto. ascoltare il rombo del motore della mia moto è per me la mia più grande passione. Sono Daniele e sono un campione del servizio.